Lo scorso 21 settembre è arrivata la soluzione con formula piena perché fatto non su sistema la procura della Repubblica di Sulmona depositato nei termini stabiliti dalla legge ricorso in Cassazione a proposito della vicenda giudiziaria riguardante l'incarico conferito al dirigente dell'amministrazione provinciale Tiziano Amorosi a scavalco con la provincia chiamato come dirigente della prima e poi della seconda ripartizione del comune. I magistrati hanno in effetti impugnato la sentenza di non luogo a procedere l'articolo 428 del codice di procedura penale emessa dal GUP del Tribunale di Sulmona Giovanna Bilone con fronti dell'ex sindaco di Sulmona Fabio Federico, dell'ex assessore comunale Mauro Tirabassi e di altre sette persone fra funzionari attuali ed ex dirigenti di Palazzo San Francesco. Non è escluso che la Corte di Cassazione, qualora ravveda l'ammissibilità del ricorso, rimandi il giudizio alla Corte d'Appello. I nuovi imputati erano stati accusati e assolti a vario titolo dei reati di peculato, falso in atto pubblico, usurpazione di funzioni, appropriazione in debita. Ora il ricorso in Cassazione è da parte della Procura, la vicenda di fatto non è chiusa.